Adesso usciamo con l'album che riteniamo la presentazione più giusta delle nostre personalità della nostra musica noi diciamo che preferiamo lasciar parlare la musica per noi la musica dei mali diciamo che siamo sempre caratterizzati da una vena rock però noi definiamo il nostro genere crossover perché cerchiamo di toccare più generi possibili e niente diremmo che è una musica comunque fresca moderna e cerchiamo di essere sempre i più originali possibili ma in realtà la voglia di spaziare in così tanti generi ci è venuta semplicemente lasciandoci liberi di ogni preconcetto abbiamo deciso di fare questo album proprio di pancia abbiamo scritto ogni cosa che ci veniva in mente ovviamente essendo quattro persone diverse ognuno con i propri ascolti ci siamo influenzati a vicenda e si sente in ogni brano magari il tocco di uno l'influenza di un altro magari uno si svegliava alle tre di notte trovava un giro di chitarra e poi il giorno dopo lavoravamo su quello un giorno invece si partiva da un testo che va scritto da meno e così sono le tantissime cose diverse ma diciamo che la scrittura in inglese fa molto parte del nostro background sia per il genere che facciamo sia per il background che ho proprio io come autore e avendo i miei genitori entrambi assistenti di volo sempre avuto abbastanza familiarità con l'inglese e quindi mi è venuto molto naturale scrivere in inglese da subito mentre l'italiano è stato un esperimento subito dopo x factor abbiamo provato a fare il nostro primo singolo in italiano però già da prima avevamo provato comunque a scrivere già altri inediti in italiano quindi questa scelta deriva proprio dal dall'essere genuini dal fare quello che ci viene in mente e senza starci troppo a ricamare sopra abbiamo cercato proprio di mostrare dei lati tutti i lati della nostra personalità in maniera veramente genuina in maniera trasparente quindi da questo deriva la scelta di scrivere entrambe le lingue se suoneremo il nostro disco anche alcuni dei brani vecchi ma rispetto si delle pie esatto delle pie i nostri vecchi singoli chiuso nel recovery rispetto allo scorso tour sarà sicuramente più curato e penso che si vedrà proprio un level up anche nella tecnica e a proprio a livello di show perché comunque quando abbiamo fatto quello è stato il nostro primo tour e l'abbiamo fatto con i pochi brani inediti che avevamo e il percorso cioè tutte le cover che avevamo portato x factor quindi è stata una cosa molto più scarna prima anche di produzione non abbiamo avuto neanche il modo di aggiungere altre cose mentre questa volta ci siamo divertiti anche molto a sperimentare con ad esempio il pad per la batteria anche altri suoni un po più elettronici quindi ci saranno anche delle formazioni nuove inedite ma in realtà spaventati no nel senso abbiamo avuto questa questa enorme feedback questa opportunità appunto da parte del nostro pubblico che ci sente siamo rimasti molto molto contenti molto orgogliosi di questi risultati che abbiamo raggiunto e anzi non la chiamerei paura ma tanta voglia di fare perché abbiamo tantissime aspettative noi in primis stiamo lavorando a questo progetto da molto tempo quindi non vediamo l'ora appunto di suonare il disco live